Festa d'estate anticipata a Genova con la città pacificamente invasa da runners e ciclisti. E oggi è anche il giorno della Stra Genova, della 10 km competitiva fino alla Famine Run di 4 km aperta a tutti. Insomma una grande festa dello sport per il capoluogo Ligure in un clima pre-estivo. Ci dice tutto Oscar Puntel. Città che si colora al ritmo della Stra Genova, famiglie con bambini, atleti professionisti, gruppi che corrono per beneficenza ai runners con gli amati cani al seguito. Tutti sulla linea dello start per una delle tre gare, la 10 km competitiva, la non competitiva e la Famine Run da 4,5 km. Edizione anche all'insegna della solidarietà. L'Associazione Italiana Donatori di Organi ha organizzato una pedalata con il cuore, corsa in bici, verso Nervi e ritorno per sostenere il tema della donazione degli organi. Io ho ricevuto un fegato nel 2013 e come vedete sono qui in bicicletta. Pensare alla donazione degli organi è una cosa importante, non ha una scelta da lasciare nel dimenticatoio. Partecipare per una buona causa. In gara anche l'istituto Chiossone che si occupa di ipovedenti e non vedenti, 150 corridori in t-shirt arancione per festeggiare i 150 anni della sua fondazione. In piazza Matteotti gli stand della salute scende in piazza, 10 associazioni da FIDAS ad Avis per ricordare che la raccolta del sangue non deve diventare mai emergenza ora che ci si avvicina all'estate. E gli studenti di medicina con un percorso per i più piccoli per insegnare loro che del dottore non bisogna avere paura. Soprattutto però serve anche a noi studenti di medicina per approcciarci nel modo migliore verso il bambino.